di ha già rifondato se c'era già rifondato è già fatto ok grazie è esponenti tutti e quattro separati quindi andiamo per quello e la fanciuffo mamma ti beccato il bot prima di giocare ragai un dio oltre istinto il bot gioca meglio di me faccio meglio di me sto qua che poi andò già dole stanno ferono però faceva dei beta assurdi capito non è finito questo raga era qui tipo due secondi fa che vito di merda sono neanche guardato di dietro tra l'altro alla fine ci ho dato un occhio ma per finta stiamo tavenando il bot ma guarda non ho rispettato giuro non ce la faccio non lo sto facendo apposta giuro che non lo sto facendo non riesco a dare il bot si muove troppo strano qualche minuto con l'esplosione sul gen ti fa perdere tempo non è così male non è che siamo senza gen death come sempre quando giochi senza gen death è sempre un pericolo rappresentano la gil valentine io so che qua ci sono dei dwight o qualcuno che sta rattando ok ho visto lì il dwight quanto tempo comunque faccio in realtà c'è bambusole devo ricordarmi non ho usato tempo per prendere distanza ho fatto che ho bambusole facciamo droppasse devo andarci subito si si ha fatto la ruota esatto bubba trail of torment tinker che palle quella biglia ma lo sto raccogliendo raga mi sono distratto mi sono dimenticato che devo raccogliere il surf mi stavo lasciando lì così giusto per no non si riesco a sta ferma ok mi bozza fermo d'ora in poi ah già sono il killer cosa si sta lasciando pure andare mi ha pure ammazzato il bot non si è lasciato andare in tempo ah io non ne ho per nessuno ma frega niente si è arreso no il bot è morto diretto e bass tanto mi aspetta che questo qui non wiggly snakes se si arrendono devono semplicemente venire eliminati dalla partita ma cosa si sta sembra si stesse curando ma non potrebbe curarsi lui ma sono 10 coltellini devo caricare siamo un m1 senza proiettili siamo molto deboli e anche scarsi dove è finito quella lì? più 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 sto andando troppo in alto però si a posto ma che' a posto? ma che' a posto? ci abbiamo crudeo lì ac camperato dietro un angolino arrivo arrivo signor Jeff Dove sarà camperato Che non lo sento Iron wheel magari No è andato a fare save Ma dove cazzo è passato Forse è di là O ha fatto il 4% Dovrebbe aver fatto il 4% No si sa qua Di tutti È stato 200 coltellini E vabbè snake Va bene snake Ok Vabbè andiamo per Dwight Fuck this shit Fuck this shit Time out Ho fatto un po' il coglione Volevo Hittarlo pian piano Tipo guardarlo Hittarlo con uno Ma ho smirato Peccato che la gente Quinta Rende il game Sempre un po' boring Quando la gente Quinta Perché sai che Il game è già finito Praticamente Non mi viene neanche Vole di impegnarmi Il problema è quello Perché tanto è Solo Tirare avanti Finché non finisce la partita Nel bene o nel male Ho un po' di fame Ciao Asics Posso per un saluto Veloce Farò poco Una festicina È la tua Festicina Asics Come vai Asics Che ci racconti Di bello Eh sì Un piccolo After C'è Tanto facciamo After Qua facciamo After Tutte le sere Metterà in mente Tutte le sere After Eh che poi C'è il muro In mezzo Mi fa vedere La porta Così GG Questo sta Continuando A provare A fare La 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 Jump Skirt Contro Il Trickster Quasi quasi Mi portavo La play Addirittura Oh Vabbè Dai In culandia È un must Scusate ma C'è un mal di schiena Poi oggi La play la porti sempre Più 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 No ho finito già i più 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 Cosa ma E grazie O An iscrib Eleven